Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi voglio parlarvi di malware su Android voglio fare una piccola premessa, tanto per essere chiari come sicuramente avrete sentito nel corso della vostra vita sugli smartphone Android entrano i virus, sugli iPhone no, non è prettamente così infatti anche sugli iPhone possono entrare dei virus, soltanto che è un po' più complicato oggi voglio mostrarvi un modo per capire se il vostro telefono ha oppure no un virus e soprattutto come andare ad eliminare quel virus è un metodo abbastanza semplice, ovviamente fate attenzione a tutto quello che farò nel video ma ci tengo a precisare che io non mi assumo alcuna responsabilità di quello che succederà ai vostri smartphone nel 90% dei casi non succederà nulla però meglio essere chiari fin da subito quello che ci serve è una connessione ad internet, un backup dei dati del nostro smartphone e basta fondamentalmente la connessione ad internet ci permetterà di scaricare un'applicazione che farà un check del nostro smartphone un check molto molto completo e poi il backup dei dati servirà perché per eliminare il virus andremo a svolgere un'operazione che cancellerà completamente tutti i dati dal nostro smartphone e ovviamente se sono dati sensibili e volete poi recuperarli successivamente vi basterà appunto andare a rieseguire il backup che avete fatto prima spero di essere stato abbastanza chiaro ma adesso non perdiamo altro tempo e vi faccio vedere in primis se il vostro smartphone ha o no un virus vi basta scaricare un'applicazione per scoprirlo e poi vi faccio anche vedere come eliminare quei virus iniziamo! allora ragazzi l'applicazione che vi serve è questa qua si chiama Malwarebytes, Android Antivirus e Antimalware è la prima applicazione che vi esce quando cercate semplicemente malware sul Play Store dopo i vari annunci il che è tutto dire, è veramente un'applicazione ottima è gratuita con acquisti in app ora vi faccio vedere come funziona una volta scaricata andiamo direttamente ad aprirla concediamo ovviamente tutti i vari permessi che va a richiedere l'applicazione sono i classici permessi, l'accesso allo storage e tutto il resto clicchiamo poi sul grande puzzante verde con scritto scansione e partirà in automatico la scansione del nostro smartphone per quale motivo consiglio questa applicazione piuttosto che tante altre? perché secondo me è l'unica vera applicazione che va a scansionare tutte le applicazioni anche quelle di sistema infatti potete vedere qui delle applicazioni che cambiano che tra poco cominceremo a vedere anche tutti i file interni dello smartphone e non è affatto scontato e poi comunque perché l'applicazione effettua una vera e propria scansione possono volerci anche 3, 4, 5 minuti di tempo prima che l'applicazione vada a scansionare tutte le applicazioni all'interno del nostro smartphone quindi questo mi fa pensare che l'applicazione è veramente molto molto ben studiata e funziona secondo me molto bene e fa quel che promette ora ovviamente per non far durare il video un'eternità andrò a velocizzare tutto il processo cercherò di non fare tagli così potrete vedere anche voi che qua sotto in basso verranno mostrate anche le applicazioni siamo quasi a 2 minuti più di 50 applicazioni scansionate beh fate conto che su uno smartphone android possono esserci anche più di 3-400 applicazioni quindi abbiate pazienza vedete aveva appena analizzato anche il launcher di sistema quindi comunque la scansione viene fatta veramente veramente a fondo io è un po' che utilizzo questa applicazione mi ci trovo bene per fortuna non ho mai trovato malware all'interno del mio smartphone però questo dipende anche molto da che tipo di utilizzo fate lo smartphone da quale siti siete soliti visitare come vedete questa è molto più veloce perché l'applicazione va a scansionare tutti i file di sistema come vi dicevo prima e vi ripeto secondo me è veramente molto molto buona questa applicazione per l'utilizzo che ne dobbiamo fare fa quel che promette ok eccoci qua nessun malware provato io prima di fare questo video ho fatto già qualche giorno fa un check e anche qua veramente ottimo 350 applicazioni scansionate più di 400 file circa 3 minuti e non abbiamo trovato alcun malware ora vi faccio vedere un'altra funzione di questa applicazione e poi andiamo avanti tornando qui alla home è possibile abilitare anche la protezione in tempo reale consuma un po' più di batteria però secondo me se avete paura di imbattervi costantemente in qualche virus può essere veramente ottima l'applicazione va a trovare anche dei problemi un pochettino meno gravi rispetto ai malware perciò super super consigliato poi se volete potete anche ignorarli e festa fine insomma se una volta effettuata la scansione vi trovate con qualche virus cosa fare? è abbastanza semplice ma non mi assumo la responsabilità di quello che fate andate a spegnere il telefono ora ve lo faccio vedere anche con un altro smartphone una volta spento premete il pulsante di accensione e il pulsante volume giù contemporaneamente tenete premuto finché non sentite la vibrazione dello smartphone una volta avvertita la vibrazione rilasciate ora voi non preoccupatevi di questa scritta voi non la vedete sui vostri smartphone una volta fatto ciò il telefono dovrebbe riavviarsi in un menu che non siete soliti conoscere credo sbloccate con il metodo di sblocco come vedete questo è un menu nascosto dello smartphone con i pulsanti del volume potete spostarvi all'interno delle varie voci mentre il pulsante di accensione servirà per dare l'ok ora scegliamo la lingua inglese pulsante di accensione fate wipe data and cache andate su wipe cache e anche erase everything quindi musica, immagini eccetera tutto questo serve per cancellare la memoria io torno indietro e non lo faccio altrimenti vado a cancellare tutti i dati all'interno del mio smartphone dopodiché o reboot o power off power off per spegnere lo smartphone reboot per riavviarlo ora faccio reboot e facciamo yes ok, ora questo smartphone si riavvierà in maniera automatica vi faccio vedere la stessa procedura su uno smartphone Xiaomi che magari è proprio lo smartphone che avete voi quindi anche qui vado a spegnere il telefono aspettiamo che venga spento completamente qui dovete fare pulsante di accensione e volume su mi raccomando ragazzi fate attenzione quindi volume su e pulsante di accensione una volta fatto ciò aspettate la vibrazione e poi rilasciate anche qua andrà ad aprirsi un menu un menu particolare che si chiama menu recovery da qui potete andare a cancellare tutti i dati del vostro smartphone ecco perché vi serve il backup che vi dicevo all'inizio ora fate anche qua wipe data e poi wipe all data una volta fatto ciò tornate su back to main menu poi reboot e reboot to system il telefono verrà riavviato e il gioco è fatto bene ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto ovviamente lo so benissimo per i più smanettoni di voi non ho detto nulla di nuovo ma per quelle persone che magari si ritrovano un virus nel telefono e non sanno come risolvere ecco così facendo ragazzi potete risolvere e potete stare tranquilli questa operazione funziona al 90% delle volte a meno che non vi beccate un virus molto molto invasivo ma secondo me riuscirete sempre sempre a risolvere tramite questa guida ovviamente se il video vi è piaciuto e vi è stato utile potete lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro e anche iscrivervi al nostro canale attivate la campanella per non perdervi altri video come questo e ovviamente se conoscete qualcuno che ha questa tipologia di problema pigiate sul pulsante condividi e mandate a lui quel video detto ciò io sono Luca Grocco e per Tech è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao grazie a tutti